Segretario, ultima tranche dei rimborsi ridotta del 33%, che fine ha fatto l'idea del PD di dimezzare i finanziamenti? E' totalmente in campo la proposta. Allora, in quella discussione noi siamo per il sistema nuovo, 50% regime, 50% di riduzione subito in questa rata che abbiamo davanti. Non c'era accordo in commissione. C'è accordo per mettere il 50% a regime, non c'è accordo per tagliare il 50% su questa tranche. Non si è trovato l'accordo. Io ho sempre detto allora si vada in aula. Il modo tecnico per andare in aula è avere un testo e quindi i relatori sul piano tecnico e dichiaratamente hanno detto su questo punto c'è disaccordo, scriviamo un terzo deciderà l'aula. Noi andiamo in aula con la proposta del 50% e voglio vedere, diciamo, l'aula cosa deciderà. Quindi non è successo nessun arretramento né niente di niente. Ecco, perché credo che anche su questo sarebbe opportuno, insomma, chiarirle bene le cose. Perché noi, ribadisco, siamo ancora fermi lì e metteremo ai voti la nostra proposta.